Gran parte dell'Italia è posta su una microplacca tettonica che coincide a ovest con gli Appennini, sale verso nord sulle Alpi, gira verso est e ridiscende a sud lungo i Balcani. Questa sorta di promontorio, facente parte della placca africana, spinge contro quella europea e l'attrito che ne deriva genera terremoti come quello che ha devastato il Reatino. Per comprendere il fenomeno, ha spiegato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si deve immaginare un rettangolo di forma molto allungata che coincide con la dorsale appenninica. A sinistra del rettangolo, cioè nella parte tirrenica, ci sono poche frecce che indicano piccoli spostamenti del terreno verso nord, mentre in tutta la parte adriatica, dalla Puglia all'Emilia Romagna, si registrano spostamenti più forti e frequenti verso nord-est. Questo vuol dire che c'è una zona adriatica che si sposta verso nord-est e una zona tirrenica quasi ferma, o in lieve movimento in un'altra direzione. È proprio all'interno di quel rettangolo che si registrano i terremoti caratteristici dell'Apenino centrale e meridionale, come ha spiegato il sismologo Alessandro Amato. In sostanza, la parte adriatica e la parte tirrenica si allontanano lentamente, dovuta a dei rotazioni di blocchi, diciamo, geologici, si allontanano con una velocità di circa 3, 4, 5 mm per anno, che è una piccola quantità, ma in realtà se ragioniamo in maniera in tempi geologici, dopo 100 o 200 anni questi pochi millimetri sono diventati dei metri, sono diventati un metro. E quindi questo significa che c'è abbastanza energia accumulata lungo l'asse della catena, lungo le faglie che abbiamo in Appennino, per farle scattare, farle muovere. Le faglie resistono fino a che possono e poi a un certo punto devono sbloccarsi, si scattano e fanno un terremoto. In questo caso è avvenuto un terremoto di magnitudo 6, una faglia lunga circa 20-25 km, con uno spostamento, non lo sappiamo ancora, va valutato, ma sarà di qualche decimetro, diciamo, da una parte rispetto all'altra. Non sono terremoti di grande potenza, ma hanno effetti devastanti a causa della tipologia dei nostri edifici, in gran parte costruiti senza criteri antisismici, ha sottolineato il sismologo Massimo Cocco.